Ciao, 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 ciao Sono Alessandro, Piero, Agostino Pellegrino, Elisa, sono Roberto Radisa, sono Francesca, Claudio, io sono Lucilla, Naveglio, sono Roberto Veleo, sono Alessandro, mi chiamo Chiara Carulli, Giacomo, Ranapoli, Polizio Abbiamo una missione da compiere e ci serve il tuo aiuto Perché altrimenti siamo fregati Ciò che vogliamo realizzare è un sogno Finché non si possa più dire me ne vado dal sud perché qui non c'è niente Assieme a un branco di scalmanati abbiamo deciso di fondare una squadra Vogliamo realizzare e costruire un futuro prossimo migliore L'intento è di creare condivisione Vogliamo realizzare un polo culturale che fa ricerca e didattica Dove si incontri il privato e il pubblico Applicato all'industria e all'artigianato, digitale e non Un luogo di innovazione tecnologica e sociale In cui la condivisione diventi una bandiera Noi crediamo che l'educazione farmi il futuro La scuola open source è prima di tutto una comunità È una fortunata combinazione di idee e persone Siamo artigiani digitali, designer, maker, artisti, sognatori, innovatori La scuola open source si occupa di ribaltare il paradigma educativo Accogliamo idee, persone, progetti per condividere spazi, conoscenze e valori E soprattutto vogliamo che questo cambi il mondo L'innovazione tecnologica e sociale Altrimenti L'intenspipurazione L'ignoranza degli altri L'intenspipurazione 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 L'intenspipurazione